La sempre più probabile cessione di Gianluca Lapadula e Gianluca Caprari al Napoli rappresenterà un cardine del mercato del Pescara. Da un lato perché la società potrà monetizzare con una cifra sui 12 milioni di euro, poi perché sarà più chiaro quello che sarà lo scenario del mercato, con Caprari destinato a restare in biancazzurro per un'altra stagione in prestito e la società che potrà concentrarsi sulla sostituzione del capo cannoniere della Serie B. La trattativa con Napoli è sostanzialmente fatta, ma resta sempre soggetta alla reale volontà del calciatore e su quella fanno leva le altre pretendenti come Genoa e Sassuolo che possono offrire a Lapadula un ruolo da assoluto protagonista. Non demorde neanche la Juventus che secondo le ultime voci starebbe ancora lavorando per prendere Lapadula e girarlo in prestito all'Empoli dove il neotecnico Martuscello lo accoglierebbe a braccia aperte. La destinazione Napoli, ottimale per le casse del Pescara, fa riflettere Lapadula sul fatto di avere davanti un mostro sacro come Iguain, senza dimenticare tutto il resto del parco attaccante a disposizione di Sarri. La necessità a 26 anni è debuttare in A, giocare e segnare con continuità. Ad inizio della prossima settimana il bomber potrebbe porre fine a qualsiasi riflessione, rompere gli indugi e mettere nero su bianco. A quel punto il presidente Sebastiani darà la caccia al nuovo centravanti. Resta molto calda l'ipotesi Marcello Trotta che arriverebbe in prestito dal Sassuolo in una squadra pronta a dargli massima fiducia. Al DS Inpectore Leone non dispiacerebbe riavere alla sua corte Gaetano Monachello dell'Atalanta, già valorizzato due anni fa a Lanciano. Detto dell'attacco il Pescara cercherà un portiere da affiancare a Fiorillo, riscattato dalla Juventus, e andrà assortito un centrocampo che ha perso quasi tutte le sue pedine essenziali, tranne Meuschai. La priorità è riavere in rival adriatico Berre e Mandragora, sempre nell'ottica di tenere il più possibile compatto l'organico della promozione. Nel caso bisognerà sedersi con Udinese e Juventus per trovare un'intesa. Con la conferma di Crescenzi è sostanzialmente a posto la difesa che potrebbe essere puntellata con l'innesto del terzino Biraghi di proprietà dell'Inter. Da valutare Andrea Coda per la sua esperienza in A farebbe molto comodo a Massimo Oddo, ma resta da capire se sia un giocatore su cui poter contare, alla luce dei tanti infortuni riportati in questa parte di carriera.